ciao a tutti in questo video vi insegneremo come personalizzare lo sfondo di discord vi anticipiamo che si tratta della versione web di discord quindi le modifiche che apporteremo a discord in questo tutorial sono rivolte esclusivamente alla versione web del messenger in questione quindi se utilizzate discord tramite google chrome quindi senza installare software sul vostro pc o dispositivo mobile allora questo tutorial potrebbe tornarvi utile in quanto vi illustreremo come impostare uno sfondo personale nelle vostre conversazioni sfondo che naturalmente sarà lo stesso in tutti i canali server e così via dicendo la prima cosa da fare è naturalmente recarvi su discord app.com tramite google chrome ed installare tramite il chrome web store l'estensione stylish ve la leghiamo nella descrizione di questo video una volta che avete installato stylish la quale vi informiamo che consente di personalizzare qualsiasi sito web tramite l'installazione di temi recatevi sul sito ufficiale di stylish e cercate l'estensione blur matter for discord potete naturalmente installare qualsiasi estensione che vi conferisca diciamo un aspetto personale ma lo sfondo può essere modificato solo tramite le impostazioni del tema quindi una volta che avete installato il tema cliccate su edit premete ctrl f sulla tastiera e digitate jpg ossia jpeg troverete l'indirizzo url dello sfondo del tema basta modificare questo indirizzo con quello della vostra immagine e cliccare su salva fatto questo avrete in discord il vostro sfondo personale grazie a tutti grazie a tutti